Buongiorno. Il brano del Vangelo conclude oggi la parte che il capitolo 13 di Matteo ha dedicato alla parabola del seminatore. Sono i versi dal 18 al 23. È Gesù stesso che spiega la parabola ai suoi discepoli, perché alla folla non lo fa come ha spiegato ieri nel racconto che abbiamo ascoltato. Gesù descrive il significato attribuendo ad ogni protagonista della parabola una analogia con la vita concreta, la vita spirituale, la vita delle persone che desiderano o almeno cercano di entrare nel regno. E così i terreni corrispondono ciascuno a una tipologia di uomo, mentre il seminatore è Dio stesso che ha sparso la parola del regno in questi terreni. I cuori di ogni persona possono essere dei terreni aridi come una strada nei quali non attecchisce per nulla la parola ricevuta e quindi il maligno ha vittoria facile. Oppure ci sono coloro che sono come terreni sassosi a rappresentare la gioia iniziale, l'entusiasmo di aver raccolto la parola che proprio svanisce davanti alle persecuzioni che diventano una tribolazione troppo pesante per queste persone. Infine il terreno con i ruovi manifesta la realtà di quanti hanno accolto la parola del regno, ma poi si lasciano soffocare dalle preoccupazioni, dagli affanni della vita e dunque dalle realtà quotidiane che diventano più importanti di quello che serve per coltivare il germe della parola. C'è anche il terreno buono che dà tanti frutti. Oggi vogliamo sottolineare l'importanza di saper discernere, distinguere quale di questi terreni prevale dentro di me. Il discernimento proprio per significato etimologico è prima di tutto l'arte di riconoscere e separare, di distinguere appunto. È molto importante non fare di tutto un erbo a un fascio, se la parola fatica ad attecchire dentro di noi non sempre è per lo stesso motivo del nostro amico, del nostro vicino e limitarsi a un discorso un po' superficiale di quanto sia difficile seguire Gesù non serve a granché. È utile allenarsi a dare un nome a quelle che sono le resistenze, le fatiche, le problematiche non esteriori, non del passato, ma dell'attualità che dentro di me non facilitano l'azione della parola di Dio. Più riusciamo a individuare ciò che ci fa soffrire, ciò che è di impedimento, ciò che è di freno, più riusciamo a lavorare per non cadere nella trappola. E allora non trascuriamo di dedicare cinque minuti al giorno a fare quello che chiamiamo tradizionalmente esame di coscienza, ma che può diventare davvero l'esame di una realtà di sentimenti e di pensieri che illumina ciò che noi siamo. È una fatica, certamente, ma i frutti, prima di tutto, nascono proprio da lì e saranno sovrabbondanti. Buona giornata.